Avanzamento di grado ad ufficiale dei vigili urbani. E' questo l'importante risultato conseguito da Carmelo Fasano, comandante della Polizia Municipale di San Giovanni Appiro, che con una nota informa la stampa del momento così significativo per la sua vita. Una carriera, riferisce Fasano, durata più di 40 anni, iniziata al compimento della maggiore età, prima come sotto ufficiale con il grado di maresciallo ordinario, divenuto subito dopo quello di maresciallo capo e di maresciallo maggiore, e terminata con l'assegnazione di ufficiale dei vigili urbani con il grado di sottotenente. Un lavoro, si legge nel messaggio, svolto per molti anni con impegno e passione. Questa è stata per me un'esperienza unica, esaltante e gratificante, ha dichiarato Fasano, il quale ha anche raccontato del piacevole gioco del destino che ha fatto ripetere in famiglia la stessa storia professionale. Mio nonno materno, rivela il comandante, chiuse la carriera con il segretario comunale Felice Palazzo e io la chiuderò tra qualche anno con il nipote Ferdinando. Sono entrato da ragazzo, aggiunge, e uscirò da vigile anziano non nascondendo quanto sarà triste lasciare lente Carmelo Fasano e però certo che colui che lo succederà sarà senz'altro migliore perché sarà una persona laureata e quindi di vasta cultura che ricoprirà più degnamente tale delicato compito istituzionale. La lettera incomincia e finisce con una serie di ringraziamenti al gonfalone municipale, al popolo di San Giovanni Appiro, ai colleghi Guerino D'Angelo e Malizia Angelo, al giovane Mimì, a quei maestri della gioventù che col sorriso lo accolsero nel 1975 nella sede municipale. E un grazie di cuore è andato anche alla nostra redazione per l'ospitalità più volte ricevuta e in particolare ad Antonietta Nicodemo per le interviste a lui dedicate. Una cosa è certa, conclude Fasano, in tutti questi anni per me è stato importante raccogliere gli insegnamenti e le attestazioni d'affetto.